È troppo elevato il numero di pazienti affetti da varie malattie che non aderiscono alla prescrizione medica, quindi non assumono i farmaci che sono stati prescritti dai loro medici. Questo si verifica anche in oncologia. È un problema importante perché non aderire alla prescrizione può determinare anche una ridotta sopravvivenza ed è un problema del quale le società scientifiche europee oncologiche si devono occupare cercando di migliorare la comunicazione con i pazienti e cercando di motivarli affinché seguano le terapie antitumorali prescritte.